Passavano i militari ed io guardavo per terra e ho trovato una buccia e un giornale ingiallito con una parola giallogola, la guerra! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Quanta storia è accumulata dentro questo magazzino? No! Vergogna! Vergogna! Congedo a lei dottore e alla sua dottrina, congedo a te ragazzina sminezza, congedo all'amore, congedo alla sapienza, ormai siamo destinazione, ora che più forte sentiamo stridere il treno, vi salutiamo davvero amici! Ci siamo giunti e ricominciamo da qui! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!